Ovviamente si parte da queste basi e tu mi dirai quale di queste ti piace di più Abbiamo la forma dritta La forma arrotondata Come stanno messe le sopracciglia Buona leggermente più alto Ger Senti che buon profumo ha questo anestetico Hai scelto già che indirizzo seguire poi successivamente al diploma? Oh, bene Ok, vuoi studiare psicologia? Bravissimo Un'ottima materia Senti Stai sentendo qualcosa? Ok, vuoi studiare psicologia? Oh, ok Ok. Ok, sei stata veramente molto brava. Hai sentito dolore? Fastidio? No, hai visto? Assolutamente. Beh, te l'avevo detto, potevi stare tranquilla. Ciao tesoro, benvenuta. Ti stavo aspettando. Tutto bene? Sì. Sì, sì, sì. Ho controllato, ho controllato. Ho visto, ho visto. Sì. No, sei puntualissima, quindi non ti devi assolutamente preoccupare. Tra l'altro dopo di te non ho nessun altro. Oggi chiudo prima? Sì. Sì, poi me ne vado un po' al mare, ho bisogno di riposare anche io. Ascolta, volevi fare solo le sopracciglia oggi, giusto? Avevi fatto notare qualcos'altro? Solo le sopracciglia. Ok. Allora sicuramente ci sbricheremo subito, va bene? Vedo che le hai fatte crescere forte, 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 forte. Brava, vuoi rifare la forma? Ah, vuoi rifare la forma? Ok, ok. Senza sfoltirle troppo? Vuoi dare una forma diversa ma senza sfoltirle troppo? Non ti preoccupare. Da quanto tempo non fai le sopracciglia da sola o in un centro estetico? Ah, ok. Quindi sono solo molti mesi? Ok, ok. Un anno quasi addirittura. Va bene, va bene. Allora tesoro mio, visto che da tanto che non fai le sopracciglia è giusto che io ti informi un po' su come agisco io quando vi faccio le sopracciglia. Posso utilizzare la ceretta, la metto un po' più rapido, ma preferisco utilizzare la pinzetta per le sopracciglia perché io mi trovo più comoda così. Quindi magari può capitare che tu senta fastidio allo strappo del pelo, la ceretta è un attimo, lo strappetto è un attimo, mentre invece la pinza uno per uno al pelo è chiaro che può dar fastidio, però ci si mette un po' di più, ma il lavoro per me, secondo me, è migliore. Però ho dei prodotti, ho una crema in particolare che non ti farà sentire dolore e consideralo un anestetizzante, diciamo, locale, che ti va ad addorcire e leggermente addormentare la zona, ok? Attorno alle sopracciglia, così che quando io vado a strappare, a strappare pelo per pelo, tu non sentirai alcun dolore. Hai già visto qualcosa su internet su come vuoi fare la forma a queste sopracciglia oppure vado io a seconda della forma del tuo viso? Io ho già un'idea, però sta alla cliente l'ultima scelta, non hai visto nulla su internet, ok? Allora, guarda qui, ti faccio vedere cosa mostro sempre alle mie clienti, soprattutto quelle molto indecise o che comunque non hanno mai fatto le sopracciglia o che come te le hanno fatte ricrescere dopo tanto tempo, volevano dare una forma decisamente diversa. In questo caso tu vuoi fare una forma ma lasciarle comunque spesse e non sfoltirle troppo, però ovviamente si parte da queste basi e tu mi dirai quale di queste ti piace di più, ok? Bene, abbiamo la forma dritta, la forma arrotondata, la forma angolo morbido e la forma angolo arcuato. Cosa ti piacerebbe di queste quattro? Beh, sul tuo viso io farei questa o questa? O al massimo questa? Sì, ti pensaci, non ti preoccupare. Vedi com'è questa? Vedi, vedi, vedi. Questa parte qua. In fondo è uno sguardo deciso, profondo. Anche questa, pur essendo un angolo morbido, infonde anch'essa uno sguardo deciso. Qui siamo un po' più dolci. Come forma? Quale ti piace di più? Questa? Strong. Bella, molto bella, sì. Ne ho fatta una così alla ragazza che stava prima di te. Buonissimi. Ok. Ora metto i guanti, eh. Buonissimi. 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 Buonissime. Buonissimi. Buonissimi. Si, di solito metto i guanti, io. Sempre. tranne qualche rarissima volta dipende da cosa devo fare no sta tranquilla intanto mettiti seduta io mi metto i guanti non sentirai nulla no assolutamente magari quando si è abituati non ci si pensa troppo al vento alle fastidio che si può sentire magari invece facendoli una volta ogni tanto sia un po' tese ma devi stare tranquilla anche perché ho un anestetico ok adesso mi avvicinerò a te un po' di più e vado a vedere un attimo come come stanno messe le sopracciglia vediamoci buona leggermente più alto buona leggermente più alto vediamo un attimo buona leggermente più alto vediamo un attimo vediamo un attimo Grazie a tutti. Ok, bene. E ti ti comodo, relazzi. Stai dando la maturità quest'anno? Oh, non lo sapevo. Come sta andando? Brava. Mi fa piacere. Senti che buon profumo ha questo anestetico. Hai scelto già che indirizzo seguire poi successivamente al diploma? Oh, bene. Ok, vuoi studiare psicologia? Bravissima. Un'ottima materia. Senti. Allora. Prenderò un po' di prodotto da qui. Ok? Prendiamo un po' di prodotto da qui. Spalmo bene tra le dita. E vado a spalmare sulle soprazzette. Ok. Come vedi, come vedi, non c'è nulla da temere. Ho ha. Ho ha. Ho. Fuori ho. Ho. Fuori. Ho. 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 ok adoro questo profumo adesso inizierà già a fare effetto senti già qualcosa? prova a toccarti si ma non è un anestetico molto forte non ti darà problemi dopo non è che perdi la possibilità di alzarle sopra gli occhi non ti preoccupare vedi lo riesci a fare benissimo non ti da quella sensazione di paralisi allora vado eh stai sentendo qualcosa? stai sentendo ok ok puliamo un po' qui si si ancora arcuato abbiamo detto si si sto facendo quello con l'angolo guardati allo specchio vedi ti piace come sta venendo l'effetto ok ok adesso mi sposto sull'altro sopracciglio ok 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 vediamo vediamo ok 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 il lavoro più bello di questo non potevo fare poi ha un viso dolcissimo stupendo adesso ti vado a mettere la crema idratante e anti-introssore della stessa linea di quella di prima sì sì abbiamo finito ma anche un solo piccolo step ok 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 sei stata veramente molto brava hai sentito dolore? fastidio? no hai visto? assolutamente vabbè te lo avevo detto potevi stare tranquilla abbiamo finito tutto non c'è null'altro da fare sei splendida guardati ok ti è piaciuto il risultato? mi fa piacere ti aspetto quando vorrai la prossima volta non ti preoccupare per la cassa di là c'è la mia collega beh tesoro allora alla prossima eh ciao 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 ciao